Questo è un momento di dolore e di luto, non di discorso, un momento di ricolimento e unione, non di parole, perché non ci sono parole che possono diminuire il soffereno di chi perdita un familiare o amico di questa forma trattata. Potremmo anche darvi un mensaggio di tutto il mondo del fútbol. Siamo tutti da vostra parte, la FIFA sta da vostra parte e non solo oggi, noi stiamo sempre da vostra parte. Forza, Chape! Eterni campeoni! Noi siamo tutti i Brasilei, siamo tutti i Chapecoense, un grande abbraccio e molta forza a tutti! Grazie!